ehi quanti cazzo siete porco dios ma che è vanguardia ma c'è uno dall'altra parte del tetto c'è un pomparo c'era un pompino che mi ha sparato ma oggi pomeriggio mi sono divertito ho usato un po' di armi ma proprio nel cine quando ho giocato pomeriggio che guarda ero in pace con me stesso pomeriggio proprio guarda vai a terra bello ciao Gian, buonasera confermate qua non mi ricapito il vestito a sposo io sei sposato oh bravo Germano tra un po' si sposa comunque si porco dios vabbè da te rinchiata Germano subito vabbè da te rinchiata Germano subito se entro i 22 non sei già sposato porco diosio è male per l'ordine che fanno vabbè è un disonore proprio come se si diti ti tolgono il cognome eri cazzo come un cazzo che troviamo una lira ma siamo spondati vado a vedere qui sotto aspetta che ci sono soldini pure qui bello scarico un bel vabbettino gratuito per si rimane presente si 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 sto non riesco a fare un cazzo quindi è meglio come sto zitto allora devo fare una roba intelligente adesso torniamo indietro ragazze gente cambia parlare la casa è che non ci fa passare ovviamente vediamo come le merde ci camperiamo come quelli sull'angoletto di shipment addirittura oddio lancio è meraviglioso è arrivato con il lancio gratuito pensate a quanto ci abbiamo messo a farlo non c'erano soldi solo per voi solo per oggi era meglio che non lo lanciavi sopra su quattro se poi io passo dalla scala c'è una quindicina qua questo c'è massimo allerta occhio non è come quello dei naked massimo e letta quello funzionava ma in quella casetta lì che cazzo stanno facendo vattene via dietro 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 ce n'è uno lancio lì qua raga si vabbè gesù cristo c'è qualcuno qua no è sceso è sceso questa fa una limonata grazie gente gente raga assunnato mi assunnato tina tirata un'altra tina una termite guadagniamo tempo controllo la scaletta acqua a destra magari qualcuno sa le date qua venipinga 229 metri dove state voi che le avete fatti ma si sono solo con le stun guarda e perché non lanciate 18 perché questi qua porco 21 qui sopra detto è sceso da hanno fatto la nuova sono neanche uscito ma fatto il cazzo io abbiamo trovato che cazzo stetto davanti a te davanti a te vanno vai con il nè gheddoni sulla sua pontrona non so voi ma se ci teniamo troppo troppo braio sono due a dagon mi pingava a te metto una una climworts chi è questo che scende o ce n'è uno che scende o uno è sceso da noi non so cosa ti conveniva frate nooo ho fatto vaffangulo a tutti ho detto perché eh sì perché gli ho sparato io l'ho messa a terra c'è qualche munita assalto rai io non c'ho più colpi assalto eh non c'è un cazzo no vaffanculo non serve una niente che cosa è vera niente sì che alzona approcchiamo nuvelle zone di sicurité identifié vabbè raga stiamo a top qui sopra oh buono c'è danno nooo cazzo qua niente questo, non c'era nessuno con la colpita assalto ce ne sono troppi in italia per me c'è un altro ancora raga, non ho più colpi di niente raga qua è pieno, c'è manca l'ultimo raga no cazzo sono arrivato un secondo dopo bravo scendali si è appoggiato la testa sul mirino questo è giorgio c'è uno qui che è fermo la sposta fin da viola e le pare che non le vedevo il mirino perchè mi ha preso sarebbe stata un'eresia per me eh lo prende eh, lei lo sa, l'ha preso tutto il pesce intende? assolutamente si il pesce non c'è più nu-gorp il pesce non c'è più nu-gorp un c'è più nu-gorp snap non scende lei dove va? ma dove vai? ma dove vai? tanto ramai si mi ha bello tu che corri in open così, dove vai? si è diventato una saponetta sto memos per troppo lì sotto anche lì ok è one quello io faccio il gufo però là è one shot lì sotto guarda se me fanno col cazzo che ritorno a giocare lo sapevo lo sapevo lo sapevo aspetta mi ammazza e ritorno giù subito sarà pure appoggiato questo ti resto, ti resto però come tu madre mica orgoglio no come sembra chiesto? ho un pur coaggi di parlare questo a me sembra chiesto e non lo dice ma cazzo vai lui non mi riprende la roba mia per uno là eh? eh si quello che sparava a me si è spostato a destra cazzo un altro cazzo un altro niente dei colpi non ne ho più e io pure sto un po' merda ci posso parare un caricatore crackato uno col col bombarda qua se per questo cazzo uno lì dietro ho messo uno a terra Due qua, due qua da me Due craccati, ma la fatica sono craccati Ok, fatto uno là Mancano due Fatto Uno sotto Oh, com'è bastardo L'ultimo, l'ultimo Sta dentro E non è che dove va Oh la no, è pure un drago questo qua GG Grandi Perché i ragazzi hanno vinto la partita GG RGG non viene bene però Per il piccolo Veramente molto bravi Vabbè, la vittoria ci voleva dopo questo cacchio di lobby, no? Cioè Ma non lo dico, non lo dico, non lo dico Vorrei parlare ma Mi Mi trattengo Mi trattengo Mi trattengo Si, si, mi trattengo Dovrei anche scorreggiare ma mi trattengo Oh Dio, vuoi pure palla, l'altro, il microfono ti sento Mette a fretta G, esatto Di chi l'ho fatto? Non ho visto Eh, l'abbiamo fatta un po', eh Ah, mica Sono stato derubato, però C'è quasi 20 Ombra Naggia Sbagliato Sbagliato Quasi Molto Vi